Ehi, come stai? Oggi è il grande giorno, dai. Sono veramente, veramente, veramente felice per te. No, ma non preoccuparti. Quindi, adesso, appunto, non preoccuparti, rilassati. Vedrai che se rimani rilassato andrà tutto bene. Io sono qui apposta per darti un'ultima sistemata, prima appunto, di questo tuo appuntamento. Sono veramente felice, finalmente. Sei riuscito ad uscire con una persona, secondo me, veramente, veramente, veramente speciale. Quindi, sono qua per fare di tutto, per renderti assolutamente perfetto, va bene? Poi, ovviamente, andrà come andrà, ma, ti ripeto, non ti preoccupare, ok? Niente, sono, appunto, veramente felice di poterti dare una mano. Quindi, cosa ho fatto? Ho portato alcuni prodottini, veramente, due o tre prodottini, che ti possano aiutare per prepararti, appunto, a questo appuntamento, va bene? Quindi, se per te va bene, io comincio subito. Tanto, non ho tantissimo da fare, tranquillo. E niente, che ti dici? Ok, 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 ok. Allora, prima di tutto, ho qui un piccolo attrezzino di metallo per rimuovere qualche piccolo brulino, possiamo dire, che è presente sul viso. Per esempio, io adesso vedo che ne hai qualcuno qua, nella zona T, diciamo, un po' vicino alle sopracciglia, oppure forse ne hai una che è qua. Adesso, non ti preoccupare, li tolgo, risolvo, risolvo tutto io, ok? Ho quindi questo piccolo attrezzino di metallo, con da una parte una piccola puntina e dall'altra un piccolo cerchietto per premere. Quindi, io farò semplicemente... Ok, ruota il viso in questo lato. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Dimmi se ti faccio male, ok? Ok, ok, ok. Ruotalo da quest'altro. Ok, no, mi sembra tutto a posto. Hai una pelle veramente bella, quindi non hai tanti brufoli, tante impurità, diciamo. Mi sembra veramente a posto. Non ti ho fatto male, giusto? Ok, adesso farò un'altra cosa molto, molto, molto veloce. Ok, ho preso qui questa lametta e anche qua vado veramente, veramente, veramente soltanto un attimino a rimuovere un po' di pappe, possiamo dire, che hai qua. E un po' di pappe, perché secondo me tu stai meglio senza. Sì, sì. Giusto un attimino. Perdoiano, ho cambiato questa parte qua in modo che fosse igienico da usare su di te. Per te va bene, quindi vado un attimino a fare... Ok. Giusto, ho capito? Neanche perché non ne avevi neanche tanti solo per fare una piccola passata. Adesso, se per te va bene, volevo usare un attimino di correttore. Soltanto appunto qua, qua e qua. Neanche troppo, solo una punta. Appunto, ne mettevo un poco qua. Mi prendo un altro pochino. E' un po' sulla fronte. Ok. Giusto appunto, dei puntini a fare. E li volevo sfumare con questo pennellino, perché non ho trovato una spugnetta in casa, quindi abbiamo solo questo pennello. Quindi, adesso, chiudi un attimino gli occhi e io te lo sfumo velocemente, ok? Ok. Sulla fronte. A me sembra veramente a posto. Ho capito? Solo un attimino Per illuminarti anche, un po', le zone un po' più grigie. E per terminare col make up perché non voglio riempirti di make up Ho qui questo piccolo blush E mi sarebbe piaciuto farti dei puntini Giusto tre Uno sul naso Due E tre E poi sulle cuance Questo è veramente pigmentato Quindi riprendo il pennello e anche qua Brush 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 Esatto Qua devo sfumare un attimino di più ma è comunque una cosa veramente veramente veloce Brush 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 Ok Prometto non ti metto più make up in faccia Tranquillo A questo punto volevo vedere un attimino le tue sopracciglia Ho preso questa pinzetta nuova L'ho comprato da poco E volevo appunto rimuoverti qualche sopracciglia messa nel punto sbagliato ecco Quindi adesso tu rilassa la fronte Se vuoi chiudi anche gli occhi va bene Puoi chiudere gli occhi E io veloce veloce ti rimuovo qualche sopracciglia va bene Ok allora Plac 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 Ok Plac 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 Non ne avevi neanche troppe messe fuori posto, ho detto sinceramente, quindi non ti preoccupare. Adesso vediamo un po' cosa ho. Ah sì, questo. Volevo metterti del burro cacao sulle labbra, giusto un pochino, per rendertene un po' più idratate. Ok, guardami, perfetto. Ok. Poi io le labbra un po' secche dovrei prendere il mio di burro cacao. E quindi abbiamo quasi finito, abbiamo quasi 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 finito. Io voglio fare solo ancora due cosette. Uno sistemarci un attimino i capelli e ho qua preso poi un pettine e dell'acqua per ammorbidirli un attimo prima di pettinarli. Quindi farò qualche spruzzo. Questo è un semplice spray con l'acqua. Quindi faccio solo qualche spruzzo. anche, anche di qua. Ok. Solo appunto un attimino per renderteli più morbidi possiamo dire. Aiuto. E poi ho qua il pettine. Questo che raccoglie anche bene le ciocche di capelli per poi appunto pettinarli un attimino. pure di qua prendo una ciocca così e la pettino un attimino. La pettino un attimino. Una ciocca qua sopra e la mettiamo a posto di qua e pure di qua. Poi siamo a posto. Perfetto. A me ora sembrano veramente spettacolari i tuoi capelli. Ultima cosa che faccio. Poi ti prometto. Ho finito. Ho veramente 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 finito. Metto un po' di profumo. Perché ci sta sempre. Dobbiamo sempre metterlo un po' di profumo. Io ho preso. Acqua di Joe. Un classico. A me piace un sacco l'odore. Quindi faccio. Puff. 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 Perfetto. 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 Mamma mia che buon profumo. Sì sì. Lo sento veramente tanto. Mi piace un sacco un sacco un sacco un sacco. Perfetto. Ricapitoliamo. Dovrei. Guardando i prodotti che ho qua. Dovrei aver completato tutto. Perfetto. Quindi. L'unica cosa che ti lascio è poi la testina della lametta. Non so anche se si chiama così. Però. Appunto per una questione di genere. E. E poi. Poi sì. Non ti preoccupare. Resto lavo e pulisco io. Quindi. Stasera mi raccomando. Vai. Bella figura. Tanto. Che vestito avevi pensato di mettere? Perché. Non me l'hai più fatto vedere. Mi hanno dimenticato di chiedertelo. Ok. Sì. Molto elegante dai. Non. Troppo troppo. Però secondo me. Molto elegante. Sì sì. No. Non ti preoccupare. Perfetto. Perfetto. Secondo me. Ci starai veramente bene. Ok. Poi. Dove. Dove andrà. Dove andrete. Scusate. Scusami. Dove andrete. Ok. Quindi un appuntamento abbastanza classico. Diciamo. Perfetto. Dai. Fammi poi sapere come va. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Ok. Quindi. Secondo me. Sei pronto. Sei veramente. 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 Pronto. Adesso. Sì. 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 Quindi ti auguro buona fortuna. Nel caso ti serva qualcosa mi mandi un messaggio. Mi chiami tanto. Ho il telefono sempre in mano praticamente. Quindi. Poi quando mi arriva una notifica. Guardo subito cos'è. Quindi sei un messaggio e rispondo subito. So che non lo fanno in tanti. Ma io sì. Vabbè. Dai. Allora sono veramente felice. Di nuovo. Ti auguro un ottimo appuntamento. Quindi. Vai. Buona. Buona fortuna. Dai. Io adesso sto qui appunto a ritirare. Niente. Magari mi metto a guardare una serie tv. Dopo. Mangio qualcosina che. Non ho ancora cenato. Quindi. Va bene. E nulla. Va bene. Dai. Ti auguro un bacio. Ti mando un bacio più che altro. E nulla. Va bene. Buon appuntamento. 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 Buon appuntamento.